Ciao, sono Fiorello e oggi non vi farò ridere. Come al solito. Parlerò di qualcosa che può aprire un futuro ai giovani. Qualcuno si è accorto di loro? Sì, si chiama apprendistato. Ma è vecchio come il cu. No, caro, è tutto nuovo. Il nuovo apprendistato incentiva le imprese ad aprirsi ai giovani, che così apprendono, guadagnano e intanto si diplomano e se sono già laureati si specializzano. Come te che sei laureato in... Sì, sono laureato in giurisprudenza. Il nuovo apprendistato apre. Il nuovo apprendistato apre.